493 nuovi casi di covid in Abruzzo, circa il 5% dei 10.122 test complessivi, 5.765 antigenici e 4.357 molecolari. Contagiate persone d'età compresa tra un mese e 99 anni, la provincia più colpita è quella di Pescara. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1.582, d'età compresa tra 78 e 98 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell'Aquila e 4 in provincia di Pescara. Del totale dei casi odierni, 2 fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 158 sono invece guariti. Nelle ultime 24 ore il numero dei contagiati è cresciuto di 327 unità. Attualmente in Abruzzo sono 12.304 i positivi accertati, molti dei quali hanno contratto la variante inglese del virus. 535 pazienti, meno due rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale e in area medica. In terapia intensiva sono 7 in più i pazienti, con 11 nuovi ricoveri, portando il tasso di occupazione quasi al 34%, con 64 posti occupati su 189 disponibili. Gli altri 11.705 positivi, più 322 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL.